Attività riguardante l'anno 2014, Santa Barbara serve un po' per fare i bilanci dell'attività svolta e parlare un pochino di quelle che sono le problematiche o perlomeno anche quelli che sono i pensieri pro futuro. Partendo dal primo argomento, ovvero quello dell'attività svolta, l'anno 2014 rispetto all'anno 2013 ha visto un calo dell'interventistica di circa del 7%, siamo passati da circa 2.600 e più interventi a 2.200. Ciò significa che ci hanno chiamato di meno, ma ciò significa anche che non solo ci hanno chiamato di meno ma anche l'aspetto meteorologico ha contribuito, infatti uno dei dati più importanti che posso far emergere dall'analisi dei dati statistici dell'anno 2014 è che grazie alla piovosità dell'anno che lo ha caratterizzato ha fatto crollare quelli che sono gli interventi legati agli incendi boschivi, agli incendi starpaglie, a tutti quegli incendi di natura, diciamo che il periodo secco sicuramente contribuisce a favorire e a sviluppare. Abbiamo avuto un calo dell'interventistica anche dal punto di vista degli incendi tradizionali sia di canna fumaria che dal punto di vista industriale. Nel 2014 non ha avuto sostanziali problemi anche quelli di canna fumaria, quindi vuol dire che è aumentata anche un pochino la cultura della prevenzione da parte delle famiglie nel tenere puliti i cammini. Ricordo che è una tecnica obbligatoria il pulire la canna fumaria del proprio cammino in combustione linea, chiaramente si intende in questi termini qua. Per quanto riguarda il numero di vigili dico che anche quest'anno, cioè l'anno 2014, chiude con un trend in crescita rispetto al 2013. Nel dettaglio, dal punto di vista dei vigili servizi attivi, questi sono aumentati di 10 unità, da 294 siamo a 304 vigili servizi attivi, che assieme ai vigili allievi, ai vigili di complemento, ai vigili sostenitori, andiamo ad assestarci sul numero che è di 477 contro i 454 dell'anno precedente, ossia dell'anno 2013. Quindi un trend in crescita, quindi questo è interessante. Pro futuro abbiamo indubbiamente come obiettivo quello di mantenere il forte radicamento sul territorio, questo è una delle cose più importanti, la disponibilità nei confronti dei cittadini rimane sempre forte e da un punto di vista di mezze attrezzature non abbiamo grossi investimenti da un punto di vista strutturale da fare come attrezzature, abbiamo il mantenimento di quelli attuali, la gestione e la manutenzione degli apparati che non è indifferente. L'aspetto formativo è fondamentale pro futuro, dovremo investire molte risorse sotto questo profilo qua, e poi bisognerà che la provincia definisca in maniera rapida quale attività di formazione è destinata alla copertura del rimborso del datore di lavoro per permettere ai nostri vigili di poter frequentare corsi di formazione durante il giorno e non di sottrarre ulteriore tempo alle proprie famiglie, al proprio lavoro magari in ambito serale. Grazie a questi meravigliosi uomini, uomini che sono gli angeli custodi delle nostre comunità che dimostrano una continua crescita professionale per garantire sicurezza, una profonda conoscenza di quello che è l'utilizzo dei mezzi che oggi propongono una tecnologia, una tecnologia spinta e credo che anche la tecnologia sia un vantaggio proprio per dare risposte ai momenti difficili in cui i nostri angeli custodi sono chiamati ad un intervento. L'unione istituale dell'Alto Garda e Ledro è l'unione che ha dimostrato professionalità. Una delle comunicazioni che questa mattina ho fatto nel momento della ricorrenza di Santa Barbara che è stata posticipata per i motivi che ben conosciamo, con l'augurio dell'amico Franco Brighenti di ritornare presto nella sua famiglia, la famiglia pomperistica che tanto si è speso, è quello che riguarda il progetto TETRA, il progetto TRETRA che abbiamo messo a disposizione come consiglio della Cassa Antincendi che riguarda questo territorio assieme a altri due territori, due vallate della nostra provincia. L'altro è quello che nel corso del 2015, quanto già avevo comunicato durante i festeggiamenti del Corpo dei Vigili del Fuoco Blontari di Riva del Guarda, l'acquisto del nuovo mezzo per i Vigili del Fuoco e i sommozzatori. Credo che anche questa sia una risposta importante a quello che è un giusta richiesta dei mezzi per far fronte a quelli che sono gli impegni.